Effetto Venezia 2023, trentottesima! E... azione! Marcello! Come here! Il cinema è la città. Ragazzi, questa è davvero una grande città. Non mi importa di quello che dicono gli altri. È proprio veramente un knockout. Grande Giove! Ho visto cose che voi umani... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.